eccoci ragazzi oggi iniziamo finalmente il progetto di ristrutturazione della bici eccola me la faccio vedere ancora una volta prima di metterci buona iniziare a smontarla ha un freddo becco oggi come si diceva le mie parti si comincia iniziamo 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 diciamo che la mano mi fa ancora molto male mi faceva veramente molta fatica a utilizzarla però ce la caviamo, guardate di che colore erano le wine e di che colore sono diventate. Adesso c'è i suoi bei anni, no, questo non è più giusto. A presto. 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 Grazie a tutti 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 8 e 9 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti